Musica Bella a tutti ragazzi qui, ora invece in questo nuovo video Oggi vi presento un glitch su come copiare gli emblemi Prima cosa, posizionatevi su caserma Seconda cosa, andate su amici con triangolo Si può fare anche su xbox Dopo, andate sul vostro amico e fate canale giocatore Andate fino ad emblemi e fate Tre volte cerchio Due volte x, una volta cerchio, una volta x Questa cosa, io ho fatto numerosi fail Infatti ve lo faccio vedere Ne avevo fatti più di 50 a provarci, a provarci Poi finalmente ci sono riusciti Ci sono riuscito e ve lo faccio vedere Prima velocemente e dopo un po' più lentamente Con il joystick accanto Anche se non so se potete capire tanto di cosa faccio Allora, ve lo spiego Dovete fare Molto ma molto ma molto velocemente Altrimenti non riuscite a copiarlo Andate, andate come, vabbè Ve l'ho già detto Andate su caserma Cercate il vostro amico Canale giocatore Scendete velocemente Dico velocemente Spingete velocemente Sui tasti e cercate il vostro emblemi Il vostro, come si chiama La sezione emblemi del vostro amico E fate tre volte x Scusate, tre volte cerchio Due volte x Una volta cerchio Una volta x E vi darà gli emblemi Dopo qui vi faccio vedere Che gli emblemi non si possono salvare Dovete ogni volta farlo Per salvarli Ad esempio Dovete ogni volta copiare il vostro amico Per farlo Questa cosa Perché altrimenti vi darà Le 5 stelline E infatti poi io le cancello E dopo un bordello di tempo Riesco a rifarlo Perché è parecchio difficile da fare Dovete fare veramente velocemente Questo glitch o bug del gioco E niente ragazzi Ricordo di iscrivervi Mettere un bel mi piace E dal prossimo video Bella a tutti In descrizione vi metterò I tasti che dovete premere Ciao a tutti E dal prossimo video Bella Ciao a tutti